Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su TCG Television, al vostro Daniel e quest'oggi proseguiremo lo spacchettamento di LEGO Minifigures serie 14, serie dedicata ad Halloween con mostri, costumi e chi più ne ha più ne metta. Vi lancio come sempre la sigla e ci vediamo subito per questa spacchettata di nuove tre bustine. Eccoci tornati, possiamo partire con la spacchettata e cominciamo da questo. Quanto un tozzo grosso, chissà che roba sia. Lo andiamo a vedere subito. E' già saltato fuori un pezzo, una faccia biancastra, sembra il Banshee o lo spettro, vediamo un po'. Oh, è la Banshee, proprio una di quelle che preferisco di questa serie. Ah, qui c'era il mantellozzo, è diverso dai soliti mantelli, perché li avvisti sono piuttosto fini quegli altri, questo invece è spesso, è un bello strato di stoffa. Questo è il corpo, piuttosto fico, trasparente. Prosegui con questo pezzo. Adesso dovremmo mettere la parte della tunica, vedo un attimo sul libretto cosa dice. Ce l'abbiamo qui, vediamo un po'. Ah, semplicemente la parte larga va sul collo. Quindi, così, pare, semplicemente. Mettiamo la testa. Voilà. E infine il cappuccio Con la catena che tormenta i viventi Presso il luogo della sua morte. Ecco, la catena mi sta causando problemi, più del vestito. Ce l'abbiamo fatta. Ed ecco qui lo spettro. Pensavo fosse il Banshee, mi sono confuso, mi confondo sempre con questi due personaggi. Sono fatti simili, almeno per quanto riguarda la parte posteriore. Vedete, questo è lo spettro, con la sua sagoma sinuosa, il mantello, la catena, il cappuccio. Questo è il Banshee, con la solita stessa sagoma sinuosa, ma non ha né il mantello né il cappuccio, bensì i capelli. Chiamato Banshee questo, questo è lo spettro, questo è il Banshee. Errore mio. Vabbè, proseguiamo. Tanto volevo trovarli entrambi, sono contento, lo stesso. Nuova busta. Quindi abbiamo trovato lo spettro e adesso cerchiamo il Banshee. Sperando di riuscire a trovarlo. Uno, due, tre. Che roba è? Ho la suite, per così dire, da scheletro. O meglio, il vestito da scheletro. Ah, c'è anche la lanterna a zucca assemblabile. Questa è una parte piuttosto piccola. Devo spostarmi un attimo, altrimenti non riesco a vedere come incastrarla. Ecco qua. Ok, questa Minifigures ha una particolarità molto interessante. Vedete il vestito? Non è proprio uno dei classici scheletri Lego che conosciamo, che ovviamente ha solo la parte che vedete in bianco. Questo qui è una suite, cioè un vestito da scheletro. Infatti questa è una Minifigures che ha una maschera. Vedete, sul dietro la maschera si intravede la pelle, per così dire, gialla dell'omino. E lo scheletro è disegnato sui lati. E ovviamente sul dorso, e sul retro, e sulle gambe. E ha questa cesta a forma di zucca, per andare a chiedere i dolcetti ad Halloween. Dovevo capire perché gli accessori per le mani sono sempre più complicati da montare. Ce l'abbiamo fatta. Non riesco a girarlo, ecco qui. Sarebbe il top. Ecco fatto, mettiamogli la sua basetta. Ed abbiamo l'omino vestito da scheletro. Ultima busta. No, non mi dire. Un altro spettro. Due spettri di fila. E vabbè, a volte capita. Neanche ci perdo troppo tempo ad assembrarlo. Ho detto che mi piaceva, non che volevo averne un esercito. Lo mettiamo senza tonica questo va. Un altro spettro. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Io vi saluto e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! No! Grazie a tutti